Quanto passa una nave di Francesco Messini a Viaggi in Soste con Franco Battiato, presentazione oggi con Franco Battiato. Franco Battiato, di cosa scrive lei? Beh, io sono un graphic designer che si è occupato anche di musica, avevo conosciuto Franco per lavorare poi con lui soprattutto nell'ambito del graphic design, ma anche della musica, perché tramite lui ho conosciuto Alice, con cui divido la vita da una trentina d'anni, ma con cui ho fatto anche una decina di dischi come produttore. E quindi il movimento è questo, insomma, quindi con Franco Battiato tante esperienze, ho imparato tantissimo, era lui che devo molto di quello che ho imparato. Questi viaggi sono viaggi veri e sono anche viaggi da fermo, sono viaggi di studio. E questa è un po' la cronaca di una quarantina d'anni di lavoro insieme. E c'è molta Sicilia nel libro? C'è molta Sicilia in quanto Franco la esprime. Io mi chiamo Messini di cognome perché ho un nonno siciliano, ma ho anche altri non astriaci. Quindi, diciamo, mi sono goduto le diversità. E musica, c'è molta musica in questo libro? Intendo canzoni, si parla di canzoni di Battiato o di Alice? Beh, soprattutto di Franco in questo caso. Del lavoro con Alice parlo poco perché questo libro è dedicato all'esperienza professionale con lui. E quali album o quali canzoni? Soprattutto magari di Franco? Ma io amo le sue cose, sono un fan delle sue cose dei primi anni, che ha ripreso da poco le cose più elettroniche, le cose più sperimentali. Quindi mi piacciono le opere, eccetera. Dopodiché mi piacciono anche molto, anzi moltissimo, tante canzoni che ha fatto. Però per me Franco è un grande musicista classico. Grazie a tutti. del libro guardate che cosa è una pasta sfoglia con scarola davvero buona i miei blog www.cmlibri.blogspot.it oppure .com oppure www.cmricette.blogspot.it oppure .com poi cos'altro potete seguirmi sulle reti sociali facebook, twitter, google plus, pinterest, stambolo e pon eccetera eccetera cmlibri o cmricette potete scrivervi e potete commentare